Senigallia Web TV, bentrovati. Le notizie di oggi, mercoledì 22 di ottobre, subito con la cronaca. Gli agenti del commissariato di polizia di Senigallia hanno denunciato una rumena di 29 anni per furto. È stata pizzicata al centro commerciale Il Maestrale, dove è stata vista uscire dalle casse senza aver pagato dalla perquisizione della borsa, gli agenti hanno trovato prodotti cosmetici e capi d'abbigliamento per un valore di circa 100 euro. I carabinieri di Senigallia hanno nuovamente arrestato per evasione il 24enne senigalliese che dal 24 settembre scorso era agli arresti domiciliari per atti persecutori. Ieri pomeriggio la pattuglia ha sorpreso il giovane in giro per le vie del centro di Senigallia, nei pressi dell'esercizio commerciale dove lavora la sua ex fidanzata vittima delle condotte persecutorie che avevano generato il prevedimento di arresto. arresti domiciliari. Sempre i carabinieri di Senigallia, con l'ausilio dell'unità cinofila antidroga, carabinieri di Pesaro hanno eseguito un servizio presso il campus scolastico per prevenire e contrastare i fenomeni dello spaccio e consumo delle sostanze stupefacenti e del bullismo, dei quali in particolare i giovani sono vittima e autori durante i controlli alla circolazione stradale. I carabinieri del nucleo radiomobile hanno segnalato alla prefettura di Ancona quattro giovani per uso non terapeutico di sostanze stupefacenti. Corinaldo è pronto ad eleggere Miss Strega ad Halloween. Anche per l'edizione 2014 Corinaldo è pronto ad eleggere la strega del terzo millennio fra tutti gli abitanti del mondo senza distinzione di età, sesso e provenienza. Sabato 25 ottobre la madrina d'eccezione ad affiancare Paolo Notari alla conduzione sarà Laura Freddi. Showgirl, conduttrice televisiva e cantante italiana, Laura Freddi è stata protagonista di Non è la Rai e un'edizione come Evelina di Striscia la Notizia. Da non dimenticare che il concorso offre grandi opportunità. Miss Strega è un personaggio che comunque negli anni si è evoluto e quindi sarà contattata eventualmente, insomma, chi vince sarà contattata dalle eventuali radio, televisioni, apparirà sui giornali e anche questi giorni ho avuto contatti con Mediaset per far partecipare Miss Strega a vari programmi e insomma avrà un futuro buono. Insomma abbiamo anche una Miss Strega di Iesi che è andata anche a Miss Italia e è arrivata in semifinale. Il 3 maggio l'alluvione che ha colpito la città di Senigallia distruggeva il centro diagnostico della casa di cura Villa Silvia, fiore all'occhiello della sanità regionale grazie alla sua strumentazione di prim'ordine. Oggi, a meno di sei mesi da quella catastrofe, la struttura torna a lavorare a pieno regime offrendo a tutti i cittadini il suo prezioso servizio. Sabato 25 ottobre l'inaugurazione. Se chiudo gli occhi non sono più qui. Il servizio. E' arrivato all'Istituto Panzini di Senigallia il nuovo film di Vittorio Moroni. Se chiudo gli occhi non sono più qui. Dopo la partecipazione al Festival del Cinema di Roma 2013 e al Santa Barbara International Film Festival 2014. Un lungometraggio di fiction con Giorgio Colangeli, Beppe Fiorello, Eizel Morillo e il giovanissimo protagonista Mark Manaloto. Penso di avere fatto un film che parte dall'idea di lavorare sulla mia adolescenza che è un periodo fondamentale, una stagione indimenticabile e decisiva della mia vita, come credo della vita di tutti. Ho voluto farlo raccontando la storia di un'adolescenza che oggi vive nella nostra contemporaneità la sua adolescenza. E quindi tutte le indagini che ho cercato di fare intorno alle relazioni, alla madre, a questo padre defunto, alla scuola che è un luogo fondamentale di questo film, per me sono tutti dei satelliti che ruotano intorno al grande tema dell'adolescenza. Eizel Morillo è stata accolta con un'attenzione particolare perché è ex alunna dell'Istituto Panzini e il suo ricordo è ancora vivo nei suoi ex docenti e compagni di classe. Mi ha insegnato tante cose e soprattutto riavvicinare alla mia cultura perché comunque crescendo in Italia ho perso un po' la mia origine. Grazie a Vittorio Muroni, con questo film Si chiude gli occhi e non sono più qui, ho avuto il modo di riacquisire tutto ciò che insomma avevo un po' tralasciato. Essere qui adesso è sempre molto per me emozionante stare davanti al pubblico, però oggi veramente è stata una giornata molto molto speciale perché ci tenevo tanto a portare il nostro film che parla dell'adolescente e ci tenevo tanto arrivare qui a Senigallia alla scuola alberghiero di Panzini perché mi sono diplomata qui e quindi per me è stato un onore insomma essere qui. Non ci sono ulteriori aggiornamenti, grazie per averci seguito. L'appuntamento è per domani.